Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 29 novembre ci avviciniamo al Natale, prima di passare agli aggiornamenti di PES 2019 vi ricordo che oggi pomeriggio con il TG Tech di Simpli Radio in collaborazione con Italia Top Games si vince Football Manager 2019 per PC e Mac, non perdete l'occasione, tutti i dettagli come al solito su Italia Top Games vi voglio numerosi a partecipare, uno di voi vincerà, quindi assolutamente provate alle 3 la domanda, alle 4 la trasmissione, più o meno dovreste sapere il tutto come funziona, ripeto, non perdete l'occasione, ma veniamo al PES 2019, qui ci sono i giocatori in forma, c'è Messi, Ronaldo, Salah, Kane, Cavani, Eriksen, Douglas Costa, Alisson, Diego Costa, Buffon, Manet, Pjanic, non ci sono giocatori al Napoli, giustamente dopo lo 0-0 con il Chievo, Borja Valero dell'Inter, vediamo un po' chi scende, scende Kroos, Suarez, Gioramos, Modric, il Real Madrid sta facendo malissimo in campionato, Vidal, Muntiti, Milinkovic, Savic della Lazio, Ilicic dell'Atalanta, Rudiger, Giorginio del Chelsea, il Chelsea ha perso, e poi appunto c'è Milik del Napoli, perché il Napoli non ha fatto sicuramente una gran partita contro il Chievo. Allora, oggi tornano le leggende in PES 2019, di cui, ottime leggende, allora vediamo intanto i giocatori in risalto, sono giocatori dell'Arsenal e del Liverpool, Club Selection, due agenti di club, e più dopo vediamo che c'è anche qualche giocatore sparso, come Eriksen, come Sané del Manchester City, Tauvin e anche altri, vediamo, c'è Ketabal dell'Inter, Caligiuri ed altri, diciamo, Sorrentino del Chievo, giustamente ottimo portiere, sempre sottovalutato secondo me. Dopo andiamo a vedere in dettaglio i giocatori in risalto e come cambiano nelle valutazioni. Mi prendo le mie 30 monete MyClub, che non dispiacciono mai, vediamo un po' quanto sono arrivati in classifica a quinto, e va bene, 21.000 GP, mi riprendo con molto gusto. Ecco qui, per festeggiare il grande successo, fino al 29, quindi oggi c'è l'allenamento tattico per 3, prendiamoceli subito, eccolo qui, l'allenamento tattico per 3, anche se sono già arrivato a 99, non si sa mai, e quindi andiamo subito a vedere le novità di oggi. Allora, c'è questo pool da collezione per prendere 4 leggende, Diego Armando Maradona, Roberto Carlos, Romario e Bebeto. Andiamo a vedere un po' questo pool, e poi c'è uno Spanish Club come, diciamo, gli altri giocatori del pool. 27 palle nere, 106 d'oro, 317 argento. Ecco qui, Diego Armando Maradona, Messi, Neymar, Romario, l'altra leggenda, Roberto Carlos, terza leggenda, Higuain, Aguero, Marcello, tutti i giocatori che hanno giocato in Spagna, se non vado errato, o se ho detto una boiata, scusate, ma così dice la gente, però Icardi perdeva giocato in Spagna, Di Bala non lo ricordo, devo essere sincero. Di Maria, Utamendi, volevo cercare Bebeto, dov'è, dov'è il Bebeto? Più giù, eccolo qui, SP84, una leggenda oro, quindi forse un po' poco Bebeto 84, però c'è Romario, c'è Maradona, c'è Roberto Carlos, come terzino sinistro mi piacerebbe tantissimo. E allora dai, facciamo un paio di giri con il pool, anche se ci credo pochissimo che mi possa capitare una leggenda. Noi ci proviamo comunque, solita schermata, andiamo in Spagna, ovviamente, vediamo un po'. Palla nera, beh, intanto palla nera c'è, quindi mi va molto bene. Vediamo un po' di chi si tratta, non è una leggenda, però vediamo di chi si tratta. Filipe Luis, un terzino sinistro, molto bene, così metto anche una palla nera come terzino sinistro, taglia figo che rende molto, però Filipe Luis non mi dispiace affatto, anche se ha 33 anni, accidenti, non pensavo, non pensavo. Benissimo, Filipe Luis, terzino sinistro, Arthur e Battaglia. Due giocatori che non giocheranno mai nella mia squadra, ma va bene così. A questo punto, palla nera, facciamo un altro giro di questo pool. Anche se a Maradona o a Roberto Carlos o a Romario ci credo poco, proviamoci, proviamoci. Andiamo in Inghilterra e quindi niente leggenda, vediamo un po' chi capita, una palla d'oro. Vediamo un po' Lanzini, non conosco questo ragazzo, trequartista, destinato a stare in panco, a diventare un allenatore ESP. Ecco, Lanzini, Sandro e Cabral. Benissimo, bella pescata inutile, però inventabilità gestionale non mi dispiace. Facciamo altri due giri e poi basta. Vediamo che succede. Dove andiamo, dove andiamo? In Argentina. Magari fosse lui, magari. No, una palla argento, non è Maradona. Allora, Bustos. Bust, Bust, Bustos. Bella pescata del cavolo. Bustos, Mas, Vittor Hugo. E facciamo un'ultima girata, anche perché dopo andiamo sotto i 200.000 GP. Via, vediamo che succede. Vediamo dove andiamo. Mi ero illuso con l'Argentina. Di nuovo in Spagna, di nuovo in Spagna, vediamo. Palla nera, bene, benissimo. Chi è, chi è, chi è? Un giocatore del Real Madrid. Vediamo, vediamo, vediamo. Casemiro, Casemiro. Oh, Mediano 87. Interessante da mettere vicino a Lucas Leva. Bella pescata, bella pescata. Lui è un'ottima pescata. C'è pure Medel come Mediano. E Ruiz, che invece mi dice poco. Da questo punto, palla nera, altri due giri li dobbiamo fare. Bescato due palle nere, sono state ottime pescate oggi. Però, Maradona e Roberto Carlos sarebbero un'altra cosa. Dove andiamo? Andiamo in Inghilterra. Inghilterra a me mi puzza di, ecco, di palla d'oro. Però, niente male. Bernard. Bernard. Ottanta. E quindi non giocherà mai. Oramai ho una bella squadra con tutte palle nere. Quindi, sicuramente lui non giocherà. Però, ce lo prendiamo e facciamo l'ultimo giro. Poi scendiamo sotto i 150.000. Non si sa mai meglio tenere qualcosa da parte. Anche se, ovviamente, mi piacerebbe pescare giocatori come Maradona e Roberto Carlos. Oh, però un'altra palla nera. Questo pull mi sta andando molto bene. Il giocatore è il Liverpool. Vediamo un po' chi è. Firmino. Firmino. Una punta. 86. Omilic. E immobile a 92. Però, però. Non ci lamentiamo, dai. Non ci lamentiamo. Firmino. Gandolfi. E Anguar. Partire che ha giocato nel Napoli e nel Catania. Se non vado errato. Se non mi ricordo male. E va bene, dai. Ultimo giro. Però davvero l'ultimo. Io ci spero sempre in Roberto Carlos e Maradona. Sono i giocatori che mi farebbero davvero la differenza per la mia squadra. Torniamo in Spagna. Quindi niente Roberto Carlos, niente Maradona. Palla d'oro. Un portiere. Portiere sono in abbondanza. Vediamo di chi si tratta. Neto. Neto. Ex Juve. 84. Ragazzo mio. Hai Buffon, Ter Stegen e Andanovic davanti a te. Quindi mi dispiace. Alario e Civelli. Bene. Con questi supergiri. Con il pool. Abbiamo chiuso. Giocatori rimasti solo 429. E andiamo a vedere gli agenti speciali. Giocatori della settimana. E l'Arsenal Club Selection. Liverpool Club Selection. Allora. Giocatori della settimana. Vai a profilo. Elenco bersagli. Allora. Eriksen. Come vediamo. Ha momenti molto interessanti. 91 di controllo palla. Passaggio alto 92. Controllo del corpo 90. Sané. 89. Secondo me è un po' poco. Qui abbiamo il controllo della palla che aumenta. Il dribbling a 91. La velocità a 97. Tauin aumenta nella potenza dirompente e anche in finalizzazione. Keita e Balde. 94. 94 in velocità e potenza dirompente. Pauroso. Caligiuri. Caligiuri aumenta in passaggio alto 86. Poi stiamo parlando di un giocatore che appunto sta a 86. Jansen aumenta molto in colpo di testa in abilità difensiva in recupero palla. Interessante. Sorrentino. Andiamo a vedere. I tre di portiere va a 93 addirittura. Copertura 93. Interessante. Jaic aumenta soprattutto in potenza di tiro 83. Potenza dirompente 85. Però non aumenta poi tantissimo rispetto ad altri. De Lord aumenta in velocità in potenza di tiro di 4. E il Kayati speriamo di averlo letto bene. Aumenta in dribbling da 80-84. Abilità difensiva da 76-83. Però parliamo di un giocatore da 84. E Mattei speriamo che si legge più o meno così. Colpo di testa 83. Abilità difensiva di 75-82. Però ragazzi qui io vedo l'unico davvero interessante. Derricksen da 91. Quindi le mie 100 monete d'oro me le tengo. Andiamo però a vedere l'Arsenal Club Selection. Elenco dei bersagli. Allora. Aubameyang. Pazzesco. Velocità 99. Potenza dirompente. Socrates. Colpo di testa 93. Abilità difensiva 94. Recupero palla 94. Ramsey. Mamma mia. Controllo palla 92. Abilità offensiva 87. Pazzesco. Ozil. Passaggio rassaterra 96. Controllo palla 94. Lacazette. 91 abilità offensiva. Finalizzazione 90. Non lo leggo. Perché questo mediano svizzero. Passaggio alto 92. Passaggio rassaterra 90. Mkhitaryan 188. Con la potenza irrompente che va 90. E tanti altri aumenti non elevatissimi. Hector Bellerin aumenta in controllo palla 81. Dribbling 81. Velocità 99. Potenza dirompente 89. Qui a me interesserebbero questi due. Aubameyang o Socrates. Vediamo un po' nel Liverpool invece chi c'è. Per decidere dove utilizzare queste 100 monete d'oro. Salah 94. Dribbling 97. Potenza dirompente 99. Velocità 96. E' pazzesco. Van Dijk. Abilità difensiva 95. Recupero palla 95. Manet 91. Abilità offensiva. Ma aumentano tantissimo questi giocatori dell'Iperful. Velocità 99. Potenza dirompente 98. Alisson. Portiere 99. Riflessi 99. Copertura 99. Roberto Firmino. Che ho preso in versione normal. Controllo palla 91. Controllo del corpo 86. Anderson. Abbiamo controllo palla 84. Passaggio all'ossa terra 91. Passaggio alto 90. Robertson. Che ho in versione normale. Io e non è male. Qui addirittura velocità 93. Passaggio alto 86. Controllo palla 82. Lovren. Palla nera. Anche lui. Recupero palla 95. Colpo di testa 91. E io gioco su Liverpool ragazzi. E io gioco su Liverpool ragazzi. Le mie 100 monete d'oro le utilizzo su Liverpool perché sono molto più interessanti rispetto all'Arsenal. Quindi usiamo la gente. Paga con monete MyClub. E vediamo che succede. Una palla nera sicura. Un giocatore Liverpool sicuro. Vediamo di chi si tratta. Mi interesserebbe molto Van Dijk come difensore. Mi sembra uno dei migliori del gioco. Vediamo. Vediamo. Allora. Chi è chi è chi è chi è chi è? E' lui? No. E' Robertson. Mi va bene. Mi va bene. Questa versione potenziata di Robertson come terzino sinistro è anche meglio di Felipe Luiz. 88 sarà lui il mio nuovo titolare. Il Robertson ultra potenziato. Ottimo. Ottima pescata. Oggi è andata bene. Rispetto ai tre Milik pescati con il Napoli oggi è andata benissimo. Mi sono. Speso per i KGP però oggi non mi posso lamentare delle pescate. Allora. Gli agenti li abbiamo visti. Vediamo se tra gli allenatori c'è qualche novità particolare. Ma la Maiterim me lo tengo a vita. Lopetegui con il Real Madrid non ha fatto un granché. Non vedo grandi allenatori questa settimana. Nella settimana scorsa ce ne sono stati di interessanti. Andiamo a vedere le sfide. Questa settimana l'avete fatta la challenge online. Tutte le volte vi dava un allenatore ESP di mille. Molto interessante. Non si era capito da Konami. Rifacendola più volte in un giorno ho scoperto questa cosa. Allora. Featured Claps. Ovviamente cosa c'è da fare? C'è da battere Arsenal e Liverpool e si becca il solito agente silver che non serve davvero a niente. Diciamoci la verità. Non serve a niente. Serve a poco. Se avete già una squadra forte a un certo punto serve poco. Qui c'è un 3 contro com partita singola e qui c'è sempre l'agente speciale silver più level 1. E poi invece andiamo a vedere la coppa challenge online questa settimana. Cosa propone? Dettagli e competizione. One match challenge. Uno contro uno. Vinci la partita. E' sempre l'agente speciale giocatore di livello 1 silver che è un po' poco oramai Karakonami. Dopo che ci ha dato tante cose, tanti palloni neri eccetera. Rimane un po' poco. Bene. L'aggiornamento di oggi un 7 se lo merita. Sono tornate le leggende. Ci sono gli giocatori in evidenza di due club e della settimana. Non c'è da lamentarsi. Forse sarò un po' influenzato dal fatto che ho fatto ottime pescate. Ma come dire, se la fortuna gira era pure il momento che un po' di fortuna l'avessi anch'io. Vi do appuntamento a questa sera per Football Manager 2019 come ho detto. Per tutti i dettagli dell'aggiornamento di oggi nella descrizione del video o sul sito Italia Talk Games c'è il link a tutta la descrizione testuale dell'aggiornamento di questa settimana. Aspetto i vostri voti all'aggiornamento di oggi. Con Pest ci rivediamo giovedì prossimo con Italia Talk Games come sempre tutti i giorni. Ciao e a presto.